Esatto, è stato molto bello ma anche impegnativo, però l'importante è che ci siamo divertiti. Inizialmente il PSG Paris Saint Germain lo consideravamo molto di più, invece il Corinthians un po' di meno, però ci siamo impegnati con tutti e due per vincere, per portarci il risultato a casa e ce l'abbiamo fatta. Il match è stato difficile, è stato difficile, ma tanto essere là, sempre bello, è sempre bello di fare cose come questo, sempre bello, sempre bello, sempre triste del match, triste di aver perduto, di non essere qualificato, è nervoso, è tutto ciò che c'è a dire.